La Commissione ha accettato la sua richiesta dell'argomento del fatto di stabilità? Mi pare che, adesso vediamo, qui abbiamo parlato di TTIP, credo che sia molto interessante che il TTIP vada avanti, che si possa anche collegare all'altra grande battaglia italiana che è quella per la PIN e che sia un dibattito molto legato al coinvolgimento in particolar modo delle piccole e medie imprese. Lo dico perché sono questioni che fanno meno notizia, ma sono le questioni vere. Grande trasparenza, grande confronto, grande apertura anche sul tema dei negoziati, ma TTIP è un'opportunità per l'Italia. Spero, penso e credo.